buongiorno ragazzi noi siamo gli atomic boy siamo nuovi nel settore di youtube abbiamo deciso di aprire questo canale proprio per per provare poi ci andrà bene continueremo noi facciamo lasciate la parola facciamo gameplay sui giochi sul computer il primo nostro gameplay sarà minecraft una nuova versione 1.4 dove ovviamente ci saranno i cavalli e gli altri gameplay che faremo sono scribble out apd poi cat mario cat mario e più di solid dreams si vedrà poi c'è noi però non prendiamo giochi dove c'è dentro una trama perché sennò non ce la facciamo allora i nostri i nostri i nostri gameplay si faranno si faranno una volta 2 al mese se riusciremo con i più di soltanto faremo una volta in due mesi a te la parola parloci un po di minecraft che manca la seconda gameplay ah beh noi in minecraft faremo giochicchieremo faremo cagate non giocare in sopravvivenza forse si giocheremo in sopravvivenza proprio per ucciderci giocheremo in creativa per far cagate anche lì poi forse oltre ai gameplay faremo recensioni di film forse e un buon canale che fa recensioni di film è i reviews in black sono bravi quindi iscrivetevi iscrivetevi speriamo che loro ricambino e comunque oltre a fare i gameplay facciamo i video poi nei gameplay non sappiamo se metteremo le nostre faccio o meno però pensiamo di sì perché almeno vedete quanto c'è andiamo a cercare di fare i giochi no vabbè allora detto questo mettete un vi piace su questo video e iscrivetevi commentate iscrivetevi di presto sul canale ciao